Andare a teatro e fare teatro. Fare teatro per imparare ad andare a teatro. Non è che si diventa più critici, no. Si entra nel meccanismo e questo aiuta, aiuta proprio lo spettatore. Non vedo lo spettacolo per forza frontale, un po' mi immagino di essere dietro le quinte. Non lo so, è come se guardando gli altri che recitano un po', volessi sentirmi lì anch'io. Secondo me bisogna nella vita, almeno una volta, provare a fare teatro. Andare a teatro ti fa venire voglia di farlo e farlo ti fa venire voglia di andare a vedere gli altri che lo fanno. Poi fra l'altro una cosa incredibile del teatro, che tutte le sere è diversa. Andare a teatro